Sì, sfigato, ma... Uguale! Sì, proprio! Feiti quello vero, Dio caro, il doppio di quello lì? Sì, anche già, grazie! Ma figurati! Ma bella! Uguale un cazzo! Ma questo dovrà fare il film di Mariana e c'è... Suisse! Suisse... Suisse... Svizzera! Svizzera! Solo lo sponsor! No vizze! Svizzera che fanno le bici, lo vedo due! Guarda! Venti casa, a pedala? C'è questa roba, quanto l'avevi trovato, un ruotino, quella scotch. Questa roba è molto inovante, perché quando vai su un luogo, vado a rivedere te, cazzo. Fate 30 km e mezz'ora vedere sputire anche il sangue. Le scotte mi piacciono di più. Sei tu che stai premendo di dietro? Qualcuno che mi sta premendo. No, no, chiedevo se eri tu, perché sentivo una presenza. Brava, brava. Perché sei circondato da Carampane, perciò? Un giro d'Italia così, è uno sport per giovani. Che schifo di finire. Corretto, perché? Madonna, è brutto. Maestro, è caduto, sì. Ah, che sbagliato! Guarda lì la sbagliata. Madonna. C'è il culo tutto bruciato. Eh sì, ma c'è. Guarda che sei fatto anche poco male, te lo dico io. L'ho visto di peggio. Non sa che dolore ho provato io. Ho visto di peggio. Poi immaginato. Sarà scivolato e basta. Sì, ma l'hanno una forchetta sulle branche. Ho lasciato tutti. Ho visto le soldi. Se sapesse tutti e duecento corridori, ma... Non conosco i principali, poi. Sì, sì. Grazie.